Presentata poco dopo la sorella minore, la nuova Peugeot 2008 riprende le nuove direttive stilistiche e tecnologiche introdotte dalla casa francese nell'ultima 208. Rispetto al modello precedente, Peugeot 2008 compie la sua evoluzione da crossover a SUV, abbracciando la richiesta del mercato, in particolare europeo. Il frontale, grazie alla caratteristica firma luminosa, mette in risalto la verticalità del disegno stilistico, mentre la fiancata, proponendo una linea di cintura molto alta e ascendente, mette in risalto i muscoli della carrozzeria e i suoi oltre 4 metri di lunghezza. L'abitacolo interno riprende il tema dell'iCockpit 3D, visto già sulla 208, catturando l'attenzione grazie ai due ampi display della strumentazione e infotainment, posizionati in alto e con una nuova veste grafica, che li rende piacevoli da utilizzare, proprio come più in generale per la plancia, tanto personale nel disegno quanto ben assemblata, grazie a materiali e finitura ripresi dalla sorella maggiore 3008. Un grande passo è stato fatto anche nei confronti della sicurezza, con l'introduzione degli ADAS nel pacchetto Drive Assist si mette al passo delle concorrenti di categoria. Sotto il cofano tanta possibilità di scelta, grazie alle versioni benzina, diesel ed elettrica. La motorizzazione benzina, con la tecnologia PureTech, presumibilmente la versione più a fuoco per il mercato europeo, presenta un buon compromesso tra prestazioni e consumi.